Grazie Presidente, presento questa mozione urgente che ha raccolto le firme di tutti i capigruppo. Di fatto nasce dallo sgomento per l'incidente che ha colpito un ragazzo adolescente travolto in bici da un tram. Ricostruendo la dinamica dell'incidente, questo incidente di fatto è causato per il parcheggio in area vietata di un'auto che ha aperto la portiera deviando la traiettoria del ciclista che è finito nell'area delle rotaie, proprio nel momento in cui stava attraversando il tram. Ovviamente questo ci riporta a riconsiderare la visione in cui la città di Milano pone gli utenti deboli della strada. Come ci indica l'osservatorio utenze deboli, l'OUD, Milano ha un numero di morti sulla strada tra due ruote e pedoni, quindi gli utenti deboli, maggiore a quello delle auto e questo ovviamente è un dato che non ci fa onore. Serve subito un cambio di visione della città, deve essere a misura di pedoni di cicliste, sicuramente non a misura di auto o di SUV in molti casi. Giusto per citare, contrattando gli amici della polizia locale, ci hanno avvisato che non hanno i mezzi per rimuovere i SUV, che per tutta l'area di Milano ci sono solo due ragni, quelli cosiddetti, e con queste attrezzature loro non possono rimuovere i SUV in doppia fila. Ed è per questo che la mozione di oggi nasce da due richieste che facciamo alla Giunta, due impegni immediati, che hanno costo praticamente zero e che speriamo possano aiutare a salvare delle vite. Il primo dei due punti è la distribuzione gratuita e la messa magari anche sul sito del Comune del manuale di sopravvivenza per chi va in bici. Di fatto un documento redatto dal Comune di Reggio Emilia e FIAB, che spiega punto per punto 11 tecniche di guida difensiva per i ciclisti, dato che le norme previste dal Codice della Strada molto spesso non sono sufficienti per avere una guida difensiva, una guida più accorta. Allo stesso tempo, oltre a questa opera di informazione, che di fatto come vuole il Codice della Strada spetta al Comune divulgare questo materiale importante, chiediamo un incontro entro quindici giorni di avere la data di questo incontro dalla Giunta e di effettuarlo entro fine dicembre 2011 tra il Comune e gli assessorati competenti, i vertici e i sindacati della Polizia Locale, tutte le realtà associative e ciclabili presenti sul territorio e le testate di settore delle quattro e delle due ruote, proprio per impostare una campagna condivisa di sensibilizzazione rivolta agli utenti delle quattro ruote. Diciamo che sono provvedimenti immediati, io tengo molto al documento del Comune di Reggio Emilia, che poi renderemo disponibili proprio a pagina 2 come secondo provvedimento, spiega che come misura difensiva il ciclista debba tenersi a un metro e mezzo dalle auto parcheggiate, proprio per evitare il comportamento scorretto, quindi l'apertura immediata delle porte. Sono piccoli comportamenti, piccole attenzioni che possono salvare la vita, quindi come Comune di Milano iniziare a pubblicarlo sul sito, iniziare a distribuirlo nelle scuole, potrebbe essere sicuramente un primo messaggio forte a favore degli utenti delle due ruote e dei pedoni, soprattutto immediato e pratico. Grazie. Prego, Consiglio Marano, il parere della Giunta. Io devo dire, quando mi era stato illustrato prima, mi ero concentrato sul primo punto, abbiamo anche preso contatti, stiamo prendendo contatti con il Comune di Reggio Emilia per avere l'autorizzazione di usare un loro materiale. Mi sembra ancora più interessante, sul primo punto, sulla parte internet, quando avevamo l'autorizzazione evidentemente non c'è problema, in questo momento non abbiamo fondi per la comunicazione, quindi per stampare materiale non li abbiamo, però li valutiamo. Mi sembra invece ancora più interessante il punto due, perché io trovo che, forse anche nella tragedia che ci ha colpito tutti in questi giorni, penso che sarebbe bello se alcuni pubblicitari, alcuni comunicatori della nostra città, che ne è tanto ricca, si mettessero gratuitamente a disposizione del Comune di Milano per inventare una campagna di sensibilizzazione. Quindi io penso che l'iniziativa a cui il consigliere Calise e gli altri firmatari ci invitano, e io non lo prendo semplicemente come un invito alla Giunta a fare l'evento, ma lo assumo come un invito di chi ha firmato a copromuoverlo e coorganizzarlo l'evento, perché anche di quello abbiamo bisogno, io credo che possa essere l'occasione per promuovere anche una partecipazione a titolo gratuito di tanti professionisti per sensibilizzare i nostri concittadini su questo tema che c'è tanto caro e che lo deve essere anche in momenti in cui siamo un po' meno sensibili come invece lo siamo oggi. Consiglio Cappato, prego. Grazie, colgo l'occasione di dover precisare che la mia stensione non riguarda motivazioni politiche di dissenso rispetto alla mozione, ma semplicemente le motivazioni che ho già esposto di richiamo, di rispetto dei termini per la decisione della Giunta in materia dell'oggetto di referendum. dicevo, colgo questa occasione per sottolineare come anche relativamente al tragico incidente che si è appena consumato a Milano che tra gli possibili impieghi indicati nel primo referendum c'era proprio quello della protezione e preferenziazione di tutte le linee di trasporto pubblico entro il 2015 e che in realtà già dal 2008 erano state messe in programmazione proprio in via solari quell'intervento che possiamo immaginare che avrebbe probabilmente potuto prevenire tragedie come queste, provvedimento che poi fu negli anni successivi bloccato e non realizzato. Questo lo volevo sottolineare perché credo che ci indichi anche un'urgenza di realizzazione di alcuni provvedimenti che sono già pianificati dal Comune di Milano ma che poi non sono stati realizzati. Grazie. Grazie. Assessore Maranda, se posso permettermi, io chiederei, e se siete da tutti d'accordo, di chiedere al Comune di Reggio Emilia se possiamo, nel distribuirlo ai cittadini milanesi, intestare il ricordo di Giacomo Scalmani perché credo che sia anche una cosa che entri nelle famiglie in un modo diverso e di grande solidarietà. Grazie. Metto in votazione allora questa mozione, firma del Consigliere Calise e tutti i gruppi presenti e quindi apro la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, sono presenti 31 consiglieri, 30 favorevoli e un astenuto, lo dico anch'io verbale, con le motivazioni che ha illustrato il Consigliere Calpato che credo non attengono al testo di questo ordine del giorno e quindi l'ordine del giorno è approvato e ho mandato alla Giunta di studiare tutte le condizioni per poterlo realizzare e anche alla luce anche dei ragionamenti che ha fatto l'assessore Marat.